intanto grazie a tutti voi di aver accettato l'invito di Transforma Italia per questo incontro che abbiamo ritenuto importante mantenere che vent'anni fa nasceva il partito dalla sinistra europea e già nelle parole che hanno dato il via a questo percorso ricordo la scelta di unire le diverse culture politiche e storiche e assumere anche il punto di vista ambientalista e femminista nella propria dimensione continentale andando anche oltre i limiti geopolitici dell'Unione Europea per la creazione di uno spazio politico comune intanto erano gli anni della mobilizzazione internazionale contro la globalizzazione liberista, neoliberista che vedeva la guerra preventiva in Iraq come il ritorno della guerra nella stessa Europa con la dissoluzione della Jugoslavia noi ci siamo mossi in sintonia con i movimenti e con il loro richiamo dall'altra Europa possibile c'era soprattutto la volontà di provare ad unire gli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici europee purtroppo l'Unione Europea si costruiva intorno a Maastricht un trattato con un'impronta ordoliberista invece che una vera e propria Costituzione europea un grande evento come la riunificazione della Germania vedeva la creazione del partito della Linke e vorrei ricordare qua Binsky il suo presidente che è stato uno insieme a Fausto Bertinotti dei promoter di questa formazione politica e proprio in quel modello di riunificazione ci spingeva verso l'unificazione di una sinistra del post sovietica con quella occidentale quella ambizione di definire una via d'uscita dal capitalismo ormai finanziario era una giusta intuzione e che anche se in parte ripercorreva quella strada fatta con l'idea dell'eurocomunismo che Enrico Berlinquer aveva lanciato molti anni prima per immaginare un percorso nuovo delle forze comuniste nel campo occidentale senza per questo richiamarsi al socialismo piuttosto si rivolgeva all'esterno all'estremo tentativo di Gorbachev a cui l'Unione Europea ha voltato le spalle in questi venti anni abbiamo percorso un cammino importante nei movimenti, nelle istituzioni nella battaglia politica e culturale un'aspirazione che però purtroppo oggi ancora rimane largamente incompiuta e attraversata da nuovi elementi di crisi Transforma Europa ha contribuito in modo significativo alla nascita e allo sviluppo del progetto della sinistra europea proprio sul campo della ricerca politica dei nesti della trasformazione capitalistica e delle forze produttive per dirla in termini classici per questo anche se solo a livello italiano e in questa forma ci è sembrato importante ricordare questo anniversario un anniversario che celebriamo mentre la guerra ritorna protagonista nelle vicende internazionali ed europee dall'Ucraina alla Palestina in cui torna il dominio dei parametri di austerity e contemporaneamente sale l'incertezza economica e sociale dei cittadini che sempre più spaventati e frustrati dalle scelte politiche europee scelgono di assentarsi dalla partecipazione o peggio di votare per l'estrema destra e tutto questo mentre Valencia ci ricorda il disastro climatico in cui stiamo sprofondando oggi si concluderanno le elezioni statunitense per molti versi potranno definire anche un cambiamento degli stessi rapporti tra USA e Unione Europea è sotto gli occhi di tutti la capacità delle forze della destra di creare sinergie anche a livello internazionale e questo travalica gli stessi equilibri geopolitici gli stessi BRICS che delineano un mondo multipolare non rappresentano un'alternativa di società da contrapporre all'Occidente a trazione statunitense torna qui da noi ma lo vediamo anche con Trump negli Stati Uniti il tema di che cosa e come si possa definire il fascismo e di contro cosa poter definire una posizione alle forme della democrazia autoritaria emblematico in questo senso è la vicenda francese in cui il richiamo al voto contro l'Assemblea nazionale e il pericolo fascista è seguita la decisione di formare un governo tenuto in piedi proprio da quella forza politica che si diceva di combattere una unità di intenti che anche nella Commissione Europea che proprio in questi giorni affronta il vaglio nelle commissioni sembra definirsi strategicamente a partire dalla questione dei migranti e mentre tutto ciò avanza le sinistre purtroppo non avvertono la necessità di unire le forze e di cercare i punti qualificanti per un'azione comune ma al contrario si dividono e come vedete le questioni sono tante e molte di questi necessitano di un ragionamento collettivo e sul piano europeo questo è forse ancora il limite maggiore che non siamo riusciti a superare in questi anni il terreno nazionale resta ancora l'unica bussola nella definizione delle scelte politiche delle sinistre e in questo dovremmo impegnarci di più e meglio noi come Transforma Italia e mi sento di dire anche come Transforma Europa lavoreremo proprio per cercare le convergenze a partire dalla questione della militarizzazione europea che sia a livello nazionale che è continentale sottrae ancora di più risorse alla spesa pubblica e cancella ogni conquista sociale che definiva il modello di welfare europeo è per questo che pensiamo sia necessario e abbiamo chiamato voi un po' a ragionare in termini collettivi su quali sono le prospettive del partito della sinistra europea e quali sono le strade da intraprendere insieme il primo contributo che mi sento di dover lanciare è appunto un contributo video che Fausto Bertinotti è il primo presidente del partito della sinistra europea ci ha fatto e che vorrei mandare immediatamente in nome allora intanto grazie Fausto per aver accettato l'invito sono 20 anni dalla fondazione del partito della sinistra europea tu sei uno dei padri fondatori se non il padre fondatore per noi che nasceva appunto 20 anni fa un'idea di una sinistra che guardasse all'Europa come il terreno della battaglia dello scontro politico istituzionale innanzitutto che cosa è stato quell'inizio che cosa ha significato ma io l'ho vissuto come un passaggio molto promettente sebbene fossimo in una condizione di transizione tra una lunga fase di movimenti di movimenti che avevano diciamo così preso il testimone dal novecento e l'avevano trasportata sul terreno della critica alla globalizzazione capitalistica della lotta per la pace però mantenendo un fortissimo radicamento tanto che appunto si poteva continuare a parlare di sinistra per parlare di una entità erede della tradizione del movimento operario del novecento nel tentativo di dislocare questa nuova storia sul terreno dell'Europa come un terreno di lotta politica di lotta politica per il cambiamento per la trasformazione e quindi un passaggio diciamo così che cercava di capitalizzare i movimenti e per costruire un soggetto politico inedito un partito della sinistra europea tra l'altro la cosa era incoraggiata dal fatto che molte esperienze siano costruite di rapporti tra i partiti di esperienze comuni non nasce come un fungo improvvisamente è un lungo processo di costruzione si potrebbero nominare i protagonisti anche di questo processo di costruzione perché non è stata diciamo così un cammino facile bisognava in qualche modo investire anche con una mozione di fiducia nel processo cosa che è stata che è stata tentata e fatta purtroppo su quella su quel tentativo è piombata la restaurazione questo è il punto la sconfitta del movimento operario del novecento era venuta a quel punto a sopravanzare anche il tentativo estremo dei movimenti di uscire da quel da quel blocco e quindi ci ripiombava addosso la sconfitta e quindi la resistenza e l'Europa prendeva una piega che era totalmente a noi avversa perché era l'Europa di Maastricht era l'Europa tecnocratica di una costruzione ademocratica in cui però noi abbiamo provato di resistere sia con le attività nella società che anche nel Parlamento Europeo abbiamo provato anche nel Parlamento Europeo di sperimentare forme di cooperazione di esperienza anche del gruppo che in qualche misura hanno provato a resistere oggi sembra una fase tutta affatto diversa io penso comunque che ciò che si può difendere ancora di quell'esperienza va difesa perché perché non vedo niente tutto attorno di così attraente di così attraente e in ogni caso certo non basta ma bisognerebbe avere una possibilità di sperimentare nuove forme di collaborazione e nuove forme di collaborazione che comunque debbano partire da un punto ormai drammatico che in tutta Europa e in particolare in quei paesi latini che erano state la culla dei movimenti socialisti comunisti socialdemocratici andando poi verso i paesi anglosassoli c'è una crisi profondissima una crisi profondissima che ha a che fare con la crisi della democrazia noi abbiamo di fronte un passaggio drammatico perché la crisi del protagonismo delle sinistre politiche in Europa si accompagna o forse persino ai figli e ai madri insieme della crisi della democrazia politica di una crisi che secondo me è fuori dall'agenda politica perché semplicemente è parte del disegno di restaurazione e di questo dominio della nuova economia capitalistica che fa pensare alle vecchie formule che noi da cui volevamo sottarci perché ci sembravano troppo schematiche quelle secondo cui i governi sono le commissioni d'affari della borghesia e in questo caso del capitalismo e ormai ci andiamo vicini nel senso che sono tentativi di costruire realtà totalitarie per cui il fronte di ricostruzione di una critica al capitalismo di una costruzione di una democrazia partecipata adesso così impellenti sono sfidate persino dall'ingresso sulla scena drammatica della guerra che sembra come dire schiantare sulla politica tutto il suo potenziale distruttivo e a cui diciamo la verità l'opposizione è troppo inadeguata ci rimane l'indignazione appena uno dice Gaza sente tutta l'indignazione per una violenza inaudita e ci fa ricordare uno dei punti di analisi nella costruzione di quel partito della sinistra europea che era il rifiuto della spirale terrorismo guerra terrorismo spirale che poteva solo essere spezzata da un'ondata pacifista e noi qui di nuovo siamo per cui il granello di sabbia diciamo così che possiamo mettere nell'ingralaggio per farlo bloccare è un granello di sabbia che si può trovare in tutti gli spazi pubblici in primo luogo naturalmente nella città in primo luogo nei luoghi della sofferenza dello sfruttamento dell'alienazione e delle possibilità di incontro tra sfruttati e diversamente sfruttati e sfruttate ma che in qualche modo deve provare a reimmaginare un percorso di sottrazione della politica dal dominio di classe in questo caso del dominio del nuovo capitalismo che è una forma di sfruttamento di alienazione e di come si può dire sottrazione alle entità e alle persone di ciò che di più caro hanno per farlo trasformarlo in energia negativa in energia di guerra sulla scena mondiale e in energia di sfruttamento di alienazione di divisione sulla sfera territoriale per cui diciamo così prima di abbandonare anche una navicella in questo tempo ci penserei molto perché semmai bisognerebbe moltiplicarle volevo iniziare intanto l'incontro ringraziando ancora tutti voi per la pazienza e visto che appunto Giorgio Malasà di Sinistra Italiana ha degli impegni istituzionali proprio nella Commissione Europea da seguire e do subito la parola a lui che ci deve lasciare Giorgio a te la parola grazie Roberto e grazie a tutte e tutti per grazie a Roberto e trasformitalia per l'invito grazie a tutte e tutti per esserci e anche per scusarmi perché subito dopo il mio intervento dovrò scappare un'audizione di uno dei commissari in particolare un'audizione particolarmente significativa per l'Italia per l'idea di Europa in questo caso per il prossimo probabile commissario alla migrazione tema uno dei temi su cui diciamo l'idea d'Europa sta evidentemente naufragando io devo aprire con una una confessione e con una premessa di spirito di sincerità io non amo i compleanni non li amo perché ci costringono credo a una a uno sforzo di di nostalgia a coat che ci impedisce molto spesso di di fare lo sforzo opposto la torsione opposta che è quella invece di di guardare al di guardare al futuro di non essere forse abbastanza lucidi per esaminare per esaminare il presente però al al compleanno sono stato invitato e dai doveroso a esserci diciamo con lo spirito giusto con uno spirito che non può essere soltanto né rievocativo né celebrativo immagino che non ho sentito molto neanch'io dell'intervento di dell'intervento di Fausto immagino abbia rievocato lo spirito con cui è nato il partito della della sinistra europea che evidentemente citava Roberto Maastricht aveva l'obbligo l'urgenza di guardare oltre l'Europa di Maastricht di immaginare un'Europa come uno spazio politico forte e necessario da occupare da tenere presente come come riferimento come dimensione politica per per tutta la sinistra e di farlo diciamo con la massima idea di di Lunci Miranz oggi diciamo quelle quelle idee risultano ancora più più attuali oggi siamo di fronte al al crollo della globalizzazione capitalista come l'abbiamo immaginata nel 2001 è un'esplosione che riporta evidentemente il mondo nella parte più tragica dei dei nazionalismi e per la parte più tragica intendo evidentemente anche quello della quella della guerra e non soltanto la guerra ma la guerra connessa alle visuaglianze alle profonde visuaglianze sociali e al profondo profonda prospettiva di catastrofe che porta che porta con sé io penso che quello spirito diciamo in grado di guardare all'Europa come come dimensione della della lotta come dimensione su cui costruire un'alternativa e una prospettiva sia ancora tutta valida e che ancora adesso dovremmo provare a ripercorrere quello quello sforzo non soltanto guardarlo a guardarlo da lontano guardate mi ha fatto un'impressione strana ci tenevo a citare un episodio diciamo del mio inizio di di militanza perché ci ha fatto pensare rivedere rivedere Fausto Bertinotti prima del dell'incontro del della della fondazione della sinistra europea avevo più o meno un 15 anni era il 1999 mi capitò di sentire un comizio di Fausto nel nel mio paese natio nel centro della Sicilia a Enna nel corso di quel comizio Fausto guardò a un certo punto l'orologio del comune il palco era proprio di fronte al municipio e notò che l'orologio era fermo e lì trasse ispirazione a una frase diciamo molto ad effetto come quelle che era solito fare Fausto ma che nasconde un forte significato politico disse fermo e quell'orologio è ferma fermo il tempo degli abitanti di questa di questa città era una frase diciamo molto forte retoricamente ma che conteneva un forte significato politico di responsabilità della politica di non essere ferma come come quell'orologio ma di essere in grado di andare avanti di stare al passo dei tempi o anzi di essere più avanti diciamo del tempo scandito dai minuti e dalle leccette di un orologio ecco adesso io con la massima sincerità vi devo dire che temo che il partito della sinistra europea oggi sia come l'orologio del municipio di Enna sia fermo sia non in grado adesso di intercettare il presente di non intercettare diciamo quella sinistra che in realtà è più diffusa di quello di quello che pensiamo nei sentimenti nelle prospettive negli ideali dei cittadini europei di quanto invece ciascuno di noi è in grado è in grado oggi di rappresentare dobbiamo credo riappropriarci della dimensione del tempo e di essere in grado di declinarla di declinarla al futuro noi come sinistra italiana abbiamo voluto chiamare il nostro congresso la vita che verrà con l'idea di avere non soltanto diciamo un senso di una sinistra fortemente utile al presente in grado diciamo di toccare la vita delle persone di uscire fuori da un angolino di testimonianza ma anche capace di dare una prospettiva un ideale un immaginario di costruire qualcosa che concerne la vita delle persone anche domani quindi riappropriarsi del tempo e riappropriarsi anche dello spazio della dimensione dell'agire dell'andare oltre diciamo il cortile in cui ci costringono i nazionalismi non rifiutare la prospettiva a priori di un'Europa storta ma che vada che va evidentemente era addrizzata io credo che esista una lezione italiana in negativo da cui provare a trarre qualche qualche spunto qualche riflessione perché non non si arrivi alla stessa alla stessa dinamica cosa temo purtroppo siamo abbastanza vicini anche anche a livello anche a livello europeo credo che dovremmo provare tutti e tutti a fare tesoro degli errori agli errori del passato forse l'unica cosa che mi sento l'unica torsione indietro che mi sento che mi sento di fare per il resto come si diceva un tempo anche se la cultura politica e anche la generazione non mi appartiene nessun passo indietro neanche per prendere la rincorsa gli errori sono tanti uno di quelli di questi secondo me lo ha citato Roberto l'ha citato con uno spirito positivo che mi sento di condividere quando lui dice uniamo le forze ma con un'avvertenza secondo me clamorosamente importante io non penso che noi possiamo pensare di continuare ancora un dibattito sulla sinistra che prova a ricomporsi per due importanti ragioni il primo perché qualsiasi cosa noi proviamo a ricomporre rischia di essere appiccicaticcia e non adatta al tempo che viviamo il secondo è che la discussione sulla sinistra che si ricompone oggettivamente non interessa nessuno e del lontano anni luce dalla vita delle persone io credo che noi dovremmo evitare in maniera sistematica qualsiasi dibattito sull'unità della sinistra per oggi e per il domani e provare a stare diciamo sul concreto delle cose io penso che noi dobbiamo evitare evidentemente un clima un atteggiamento di lacerazione di polemica su chi è più prossimo a noi questo indipendentemente diciamo dalla pacifica differenza di strategie che accompagnano le nostre strade cosa che in Italia c'è e c'è anche in Europa dovremmo provare penso a evitare il principio di rimettere costantemente tutto in discussione ogni progetto ogni idea questo come dire in massima trasparenza noi lo stiamo facendo come sinistra italiana come come alleanza verde sinistra e su questa direzione ieri come oggi e come domani abbiamo tutta la necessità di di continuare la necessità non solo la la volontà perché anche un rispetto una forma di di continuità rispetto a una comunità che che lo chiede e poi temo che un'altra lezione sia quella diciamo dello cancellare una forma di paura della della contaminazione io non penso che la sinistra oggi le sue varie forme può partire dalla pretesa dell'avere ragione sul mondo penso che debba partire invece da un metodo che ci dia il senso della tenacia dell'insistenza del convincimento del confronto perché non riusciamo a costruire una sinistra soltanto a partire da un piccolo nucleo di di noi stessi queste sono non le lezioni che penso che tutte noi dobbiamo apprendere come una specie di 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 gruppo queste sono quelle che noi abbiamo introiettato fin qua e che mi sembra di rivivere per per molti aspetti in quella che è la situazione europea adesso per questo come dire io mi auspico che diciamo che ci sia una presa di coscienza molto forte rispetto a questi elementi di metodo perché titolo dell'incontro di oggi era quale sinistra quale Europa è un'altra sinistra e un'altra Europa e ben evidentemente il mio auspicio con cui diciamo chiudo il brindisi di compleanno è esattamente questo che è quello che siamo in grado di avere conscienza e consapevolezza anche e soprattutto dei limiti profondi che che viviamo che siamo in grado diciamo di ribaltare il tavolo perché la lettura della situazione la lettura del presente in realtà lo impone lo impone insomma quello di non avere una sinistra di testimonianza e badate io non ho nessun tipo di accezione negativa rispetto al termine di testimonianza quindi lo dico diciamo così in maniera completamente piante ma non è banalmente quello di cui abbiamo bisogno oggi oggi abbiamo una destra tremendamente forte tremendamente aggressiva che ha sobbaltato qualsiasi tipo di paradigma noi eravamo eravamo abituati le prime settimane in questo nuovo Parlamento europeo ci dicono ci dicono questo nel senso non esistono saltati i riferimenti minimi di tenuta politica e se noi puntiamo diciamo all'altra Europa una prospettiva diversa a quell'oltre master che dicevamo prima evidentemente non possiamo limitarci a partire da noi stessi io so che diciamo le cose che ho detto lo spirito non è perfettamente condiviso da tutti voi penso diciamo che il mio sia un intervento di minoranza però spero possiate possiate coglierne lo spirito e il proposito assolutamente diciamo costruttivo per il bene di tutti noi per tenere diciamo viva una prospettiva tanti auguri a tutti continuo ad ascoltarvi per un po' dal telefono grazie Giorgio grazie anche per la sincerità di averci offerto questa opportunità di incontro che appunto non è soltanto una commemorazione un compleanno ma è un guardare al futuro e volevo adesso dare la parola a Marga Marga Ferré presidente della fondazione di Transform Europa ed è a lei che affido diciamo il testimone ci sei? sì che c'è una cosa che credo che dobbiamo celebrare 20 anni di un progetto ma anche di l'opportunità di 20 anniversario di pensare a think and a rethink of what it is the European Left Party today the differences from the moment when it was created 20 years ago and on this analysis to think how can we prolong the future of the idea of the necessity which in transport we believe in the unity of the left at the European level. This year also we have the 50th anniversary of the democracy arriving in Spain in Portugal and Greece so we are also revisiting and commemorating these anniversaries because they are relevant and they are important and I also would like to encourage the European Left Party about the wire to take this opportunity of the 20 years of the European Left Party to think of the wonderful things that the European Left Party has done in 20 years which there is a lot and I think there's a lot of people who doesn't know about it and in the campaign again Maastricht the question of fighting for peace their relation with the Wall Street Forum the European Left Party Summit University as a place for young people to talk and at the same time to talk about the weaknesses or the possible mistake we have made the European Left family in all these years to learn from them because what we see today and all of us agree on that is two things on my perspective we analyse very well the far right and the extreme right advances and menaces all around Europe on my view we don't analyse so well the changes inside capitalism and how this affects the working classes in Europe and as a react to that the far right is part of the problem and I think this is something we need to focus because the European Left need to think also in the political subject we are addressing our policies the weaknesses in our view the weaknesses of the European Left Party today and the splitting of the European Left Party is a consequence of the weakness of the left at national level in one side and on the other side the splitting of fragmentation process of the left at national level too and we have watching in the last five years how the representation of the political left in different parties has suffered in splits in Germany in Spain in Greece in Italy of course in France and this process of splitting and going together is part of the dynamic in a lot of countries in Europe in the last years and particularly in the last two years why that's happened and I think that is one of the things we need to think about it and we found some of the splitting points let's say or not unitarian points the question of the Ukraine war which is something relevant that we need to think because peace is there on my view the pillar over which you can construct a political project but without it is very difficult and it's not the first time that the European Left in history is splitted because of the war and this is not a secondary thing and at the same time we need to understand that the advanced politically speaking of the far right is an hegemonic question it's not only electoral it's an hegemonic question in which we can see part of the Left even having doubts on the question of the migrants or in the question of the feminists or the questions because they think it's not socially acceptable as it was when the hegemony in our societies were much more progressive anyway these are real challenges I think we have now on my view one of the weakest parts weakest part of the European Left Party constructed during these 20 years it was like we needed to protect this space so we didn't have a real debate as I think is needed today but we have we have the opportunity and we can open the spaces to do that because peace question migrant questions international questions and also the question of what is the working class today and how capitalism is acting in our societies are essential to answer in order to create a common project for all of us what we think and I talk with Connie our friends of Transform Europe a lot about it is that logically when we see the fragmentation of the Left in Europe at European level and national level is because there is a lack of common project obviously and so the task is clear they're building the dialogues enough to try to build a common project what kind of Europe do we want in this moment particular moment of history and how capitalism is reacting on the basis of what is the working class today which is different from other parts on the other hand I honestly think that one of the problems we have seen and we have the opportunity to tackle and also to resolve it I think is that because of this advance of the far right and the extreme right Europe is becoming a progressive idea this is strange it was not 20 years ago but now with this nationalistic approach xenophobic approach and this fight even inside we got the European Parliament more far right than ever in history that defending the idea of a common project for the European popular classes and citizens is becoming a progressist idea and this is different from the debate we have in the left Walter Haynes we remember about the Brexit Brexit being part of the European Union and all the debates about the Eurozone which was really very relevant but I think this is not the time we are facing the time and I'm finished with this in which the real menace of the far right the extreme right in Europe is menacing not only electorally but changing the hegemony in our societies transforming the common sense of the population in a more racist and violent way and I think this is relevant enough for all of us to have the historical task to react to it in order to try to define a new common project for the working classes in Europe that of course is not new in history in my country in France and in others we create the popular France that are now in France that we create it again the Nouveau Front Populaire on the basis that the unity of the left all of us who want to stop the far right to stop being in the government but it's not the most important to stop advancing in our societies so I think it's the time and we can celebrate these 20 years with the idea that we need to rebuild the left on different levels that means since that to transform Europe it's important to have organic unity but it's not the most relevant the most relevant is the fight for the ideas that our beautiful red line in history in Europe has created in the last 300 years so I think the project deserves our attention and to take this opportunity and this anniversary to rethink again and to relance the idea of a common project in Europe thank you grazie 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 mille Marga da una fondazione da una fondazione all'altra e chiedo a Heinz grazie Roberto grazie per l'invito a questo incontro credo che sia molto importante di riflettere la situazione della sinistra europea adesso ho capito che a Giorgio non piacciono i compleanni però Marga ha detto non è solo commemorazione però una opportunità di riflettere e io volevo dire anche che il fatto che nasceva la sinistra europea venti anni fa era un gran evento di grande importanza per la sinistra perché è nata una forza politica con una politica con una concezione politica alternativa alternativa alle politiche neoliberaliste contro i trattati di Maastricht di Lisboa e per questo credo che è stato un evento molto importante chiaro abbiamo percorso c'era un percorso con alti e bassi e ci sono stati sempre conflitti non solo oggi ma anche nel passato ci sono stati molti cambiamenti per quanto riguarda i partiti i partiti hanno cambiato moltissimo in particolare i partiti comunisti credo sono nati nuove partiti anche però credo che è stato un evento molto 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 importante questo volevo dire quando abbiamo vent'anni della sinistra europea però proprio oggi stiamo di fronte di una situazione molto difficile per la sinistra molto difficile proprio quest'anno hanno lasciato partiti importanti la sinistra europea hanno creato un altro partito europeo questo purtroppo è un fatto un fatto molto grave però dobbiamo renderci conto di questo fatto allora dove siamo io sono stato nelle ultime due settimane in america latina il tema centrale era l'avanzata della estrema deregia estrema destra non in spagnolo deregia estrema destra è veramente un fenomeno globale e siamo stati tutti hanno chiesto perché proprio in Europa la destra è così forte credo che noi dobbiamo fare un analisi della situazione economica sociale politica sono convinto che noi stiamo in una crisi molto profonda economicamente socialmente politicamente e stiamo pronte di trasformazioni enormi e per questo abbiamo una situazione che la gente è molto preoccupata e hanno paura del futuro perché come conseguenza delle politiche neoliberiste abbiamo grandi problemi sociali e ci sono trasformazioni veramente molto profondi credo che ci siano due trasformazioni fondamentali la prima la trasformazione necessaria dell'economia e dell'industria la trasformazione ecologica per noi deve essere una trasformazione ecologica sociale sociale e ecologica perché dobbiamo includere anche i problemi sociali con queste trasformazioni però adesso i nostri governi non sanno rispondere adeguatamente a questa trasformazione per noi dovrebbe essere un punto centrale la trasformazione sociale ecologica l'altra trasformazione è una trasformazione geopolitica abbiamo una abbiamo molti conflitti militari guerre come non solo in l'Ukraine e in Medio Oriente in tutto il mondo e abbiamo una lotta per la eccemonia che le Stati Uniti vogliono mantenere una situazione in crisi in confronto con la Cina questo è un quadro molto difficile e noi come sinistra dobbiamo trovare risposte dobbiamo avere questo per noi è cruciale perché il miglior rimedio contro l'estrema destra sarebbe una sinistra forte con una strategia convincente adesso non ce l'abbiamo per questo ci vuole un dibattito serio per quanto riguarda la nostra strategia abbiamo le possibilità dobbiamo riflettere la situazione credo questa situazione molto difficile che adesso che va politicamente alla estrema destra però questa situazione molto complicata dove si vede molto bene i limiti di uno sviluppo capitalistico offre anche delle opportunità per la sinistra noi dobbiamo prendere queste opportunità io credo in particolare con Transform con la fondazione Rosa Luxemburg con tutti i partiti della sinistra con la sinistra europea abbiamo la possibilità di prendere queste opportunità adesso credo che sia molto importante che noi rafforziamo il profilo il profilo della sinistra europea abbiamo fatto nel passato ci sono programmi per esempio il programma per le elezioni europee anche il documento politico nel passato congresso 22 però ci sono tanti punti però credo che noi dobbiamo rafforzare il nostro profilo io credo che tra cui la questione della pace sarebbe un pilastro sarebbe un punto cresciale e credo che questo sia molto importante per me la pace e anche la lotta contro il cambiamento climatico cioè la trasformazione sociale e ecologica nell'industria e la lotta per migliorare le condizioni di lavoro e di vita sono appunto punti cruciali e come e come ha detto anche Marca credo che la questione della migrazione è un altro punto cruciale per la sinistra su tutti questi temi abbiamo bisogno di un dibattito serio e così e così sarebbe la possibilità di rafforzare il nostro bocchino abbiamo anche molte possibilità di ampliamento delle cooperazioni che abbiamo perché credo che sia molto importante la cooperazione con il gruppo nel Parlamento europeo con the left però anche con i sindacati e ci sono punti di partenza e abbiamo anche una cooperazione abbastanza bene con i sindacati europei per esempio tutti sono vantaggi per noi e per questo credo che sia possibile di uscire di questa situazione di crisi e di debolezza della sinistra per questo per me è molto importante questo incontro in cui stiamo riflettando la situazione in cui ci troviamo grazie 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 a te grazie alla fondazione Rosa Luxemburg che ci offre sempre collaborazioni in motivo di di orgoglio per noi avere questa relazione con voi e volevo dare la parola adesso a De Leonora Forenza di Conduzione Comunista e poi Piero ciao a tutti a tutti spero mi sentiate datemi un salto ti vediamo anche ok allora innanzitutto grazie a Transform per questo invito e grazie a tutte e tutti insomma per essere qui perché diciamo inizio subito anche io con grande franchezza io invece sono un amante dei compleanni ho una formazione storica e diciamo anche nella storia di grandi partiti italiani penso all'anniversario della morte di Togliatti era sempre un momento in cui il partito non faceva semplicemente una celebrazione ma faceva una celebrazione un bilancio politico e gli anniversari sono sempre dei momenti anche di bilancio e anche di individuazione di elementi di continuità col passato utili e individuazione di elementi di discontinuità con il passato necessari quindi anche momenti in cui il bilancio sollecita quello di cui noi abbiamo bisogno e della cosa più importante che voglio dire la dico con un termine gramsciano abbiamo bisogno di creatività ma di creatività nel senso filosofico e politico cioè di reinventare le nostre forme dell'agire politica proprio perché io mi auguro diciamo che questo non sia diciamo uno degli ultimi compleanni ma che ci possano essere molti altri compleanni della sinistra europea e a volte diciamo bisogna anche interrogarsi perché se si vive male un compleanno magari si preferirebbe essere un funerale ma invece è un compleanno e quindi io mi auguro che sia un bel compleanno e sicuramente non l'ultimo un compleanno che tra l'altro abbiamo stiamo diciamo così celebrando lo uso questa parola tra molti virgolette in maniera posticipata rispetto alla data su cui voglio tornare altra data fondamentale quella dell'8-9 maggio per una ragione politica cioè che le due forze italiane diciamo che hanno partecipato alle elezioni europee facciano parte di liste diverse e quindi ovviamente diciamo un'iniziativa europea nella campagna elettorale per ragioni che tutti e tutti potete immaginare è stata diciamo considerata un po' rischi per usare un termine inglese allora io voglio voglio stare un po' così diciamo tra presente e futuro dicendo subito che ovviamente è molto difficile discutere diciamo di quale Europa nella giornata di oggi giornata storica per quello che si sta decidendo negli Stati Uniti e che ovviamente avrà un impatto diciamo su quale Europa si andrà a scrivere quale sarà il futuro dell'Europa speriamo che non lo scrivano gli Stati Uniti ma indubbiamente quello che si decide delle elezioni di oggi avrà un impatto anche sull'Europa che verrà e sull'Europa con cui dovremo confliggere oggi parlavo con i miei allunni e le mie allunni di storia sul significato storico di questa data al 5 novembre e anche diciamo la data della congiura delle polveri lo ricorderete congiura delle polveri il 1605 Guy Fawkes all'interno della rivoluzione inglese è un momento importante un momento che soprattutto segna l'immaginario collettivo dalla maschera di Guy Fawkes l'immaginario di Anonymous di V per vendetta e poi della casa di carta perché dico questo perché diciamo in quell'immaginario collettivo che appunto guardava V per vendetta come uno dei film cult della propria generazione c'era la diciamo generazione la mia generazione che incrocia il congresso della sinistra europea nel momento in cui la stagione del movimento dei movimenti la stagione che per noi qui era fondamentalmente del diciamo movimento cosiddetto no global che poi in realtà era un movimento alter mondialista ma che insomma vive la nascita del partito della sinistra europea io ero lì in quell'hotel da diciamo giovane comunista che di fatto si occupava delle delegazioni che erano venute diciamo non avevo nessun tipo di responsabilità politica particolare ma ricordo la grande emozione con cui vivevo quell'esperienza perché quell'esperienza e diciamo qui Fausto Roberto insomma sono un po' la memoria storica di quelle di due Roberto tutte e due di quella diciamo del significato politico di quella esperienza nasceva a Roma anche perché in quel momento e passiamo da questo punto di vista il tempo è davvero passato in quel momento diciamo forse la riflessione di rifondazione comunista e la capacità di rifondazione comunista di stare dentro i movimenti quindi di essere parte integrante di quello diciamo della stagione di mobilitazione che diciamo tra il 2001 e il 2004 porta appunto rifondazione ad essere vissuta diciamo come parte integrante del movimento dei movimenti penso al forum sociale di Genova di cui rifondazione era parte il partito della sinistra europea nasce lì nasce come capacità di intercettare da parte della sinistra politica e della sinistra partitica quella che allora era un'altra forza politica il forum sociale europeo la potenza politica del movimento dei movimenti ora secondo me noi ci troviamo ed è questa la prima domanda che lancio e rilancio dentro la necessità di reinventare la sinistra europea in una fase in cui la capacità di mobilitazione transnazionale non ce lo dimentichiamo che quella stagione di movimenti dal diciamo 1999 ai primi anni anni 2000 era una mobilitazione fortemente transnazionale nel momento in cui quella capacità di mobilitazione transnazionale si è attivolita torno su uno slogan di quella stagione un'altra Europa è possibile uno slogan che noi abbiamo ripreso nella campagna elettorale del 2014 anche qui due Roberto sono memoria storica attiva di quello slogan un'altra Europa è possibile slogan del movimento dei movimenti che noi utilizziamo in Italia nel 2014 a sostegno di una campagna elettorale che evidentemente aveva nella Grecia di Tsipras il proprio punto di riferimento politico nel 2004 succede anche un'altra cosa succede che proprio qui la mia deformazione storica emerge in tutta la sua potenza succede anche che il 4 ottobre esattamente il 4 ottobre in una manifestazione all'euro anche io lì ero presente e me la ricordo incomincia a verificarsi la prima crisi di quello che era il movimento dei movimenti con quella manifestazione all'euro io ricordo diciamo l'allora coordinatore dei giovani comunisti con cui ebbe in modo di confrontarmi adesso fa il segretario di sinistra italiana lascio stare che diceva diciamo con questa manifestazione diciamo forse c'è un punto di chiusura di una fase politica e in effetti diciamo da lì in poi inizia un'altra discussione dentro la rifondazione comunista la discussione che poi porta nel 2006 alla diciamo stagione del secondo governo ma non voglio parlare non voglio parlare di questo voglio parlare invece della difficoltà che noi abbiamo cioè la difficoltà di reinventare la sinistra europea nel momento in cui non c'è un movimento transnazionale e insisto su questa parola transnazionale europeo in grado di reclamare un'altra Europa perché secondo me quella fondazione nasce lì nel fuoco di questa capacità di creare immaginario collettivo europeo che oggi è oggettivamente venuta meno e questa è la prima cosa che voglio dire come domanda la seconda cosa riguarda un altro anniversario il partito della sinistra europea nasce in hotel romano l'8-9 maggio se non ricordo male o in diciamo in quel tornante lì perché nasce in quel tornante lì perché quella sappiamo anche qui gli anniversari hanno una storia sappiamo essere diciamo una data simbolica per la storia europea per la storia mondiale la festa dell'Europa il 9 maggio che si celebra nella totale rimozione dell'altro significato diciamo mondiale per l'Italia e poi di molti altri la data del 9 maggio di quella data che è diciamo la sconfitta in Europa del diciamo diciamo quella che in Russia viene celebrata tuttora come giornata della vittoria che è l'8 ma viene comunicata nel 9 e che è diciamo la sconfitta definitiva del diciamo della Germania nazista in Europa ora Pasqualina Napoletano diciamo con lei ci abbiamo ragionato più volte di questo slittamento semantico della data la data del 9 maggio festa dell'Europa non ha mai dialogato con l'altro significato del 9 maggio liberazione dell'Europa dal nazifascismo e questo per me è un altro punto storico e politico perché perché se noi oggi non parlo di quello accade da stanotte a mezzanotte e mezza parlo di oggi noi viviamo in una diciamo un processo di rifondazione dell'Europa in una dimensione di guerra di guerra di fatto di guerra diciamo guerreggiata penso alla guerra in Ucraina penso di guerra di cui l'Europa è pienamente corresponsabile penso ai massacri compiuti e tuttora drammaticamente in corso da parte del governo del governo israeliano di guerra come giustamente veniva ricordato alle persone alle persone migranti e anche perché diciamo progressivamente o meglio regressivamente diciamo la storia che viene istituzionalizzata procede a una rimozione delle proprie radici antifasciste e invece alla costruzione di una equiparazione tra nazismo e comunismo l'abbiamo visto nella risoluzione che diciamo è stata approvata se non ricordo male nel dovrebbe essere fine 2019 in Parlamento in Parlamento europeo però io credo settembre 2019 grazie grazie Pasqualia io credo che in questo slittamento ci sia parte del problema con cui con cui ci stiamo ci stiamo confrontando per chiudere diciamo sulla questione del diciamo del del passato e per venire ai nostri problemi presenti poi Roberto toglimi la parola quando ho superato il mio tempo perché non ho controllato l'orologio allora io penso che diciamo quello che è accaduto che già Marga altri compagni da ultimo hanno rilevato cioè la scissione come dire non come dire non più pesante del solito che abbiamo subito a livello europeo mi riferisco ovviamente alla fondazione di un nuovo partito europeo cosa che è un inedito che ci siano due partiti europei di sinistra che diciamo si richiamano al campo al campo della sinistra secondo me Valletta diciamo non soltanto come una perdita e una sconfitta per tutti cosa su cui penso che siamo tutti e tutti d'accordo tant'è che diciamo io voglio ringraziare pubblicamente Walter per essersi speso diciamo con tutte le sue energie per evitare che diciamo questa scissione avesse luogo e avesse corso secondo me noi la dobbiamo leggere politicamente e storicamente su quali falli avviene la prima è quella della guerra che ha diviso prima ancora che il partito della sinistra europea al gruppo parlamentare abbiamo visto sul voto la seconda è quella diciamo su cui io provavo a insistere prima quando parlavo di movimento europeo transnazionale a me sembra che diciamo i partiti che hanno dato vita a European Left Alliance siano fondamentalmente partiti non più appartenenti a una sinistra comunista o di tradizione comunista nati nella relazione col conflitto sociale ma a un'altra stagione della forma politica in cui diciamo passatemi il termine e non è assolutamente né dispregiativo né denigratorio non lo usano in accezione negativa ma assolutamente neutra prevale un impianto populista di stampo nazionale in cui il tema della sovranità è un tema non accessorio ma fondamentale e quindi necessariamente in una dimensione nazionale senza arrivare al caso diciamo più come dire in cui questa connotazione è più marcata penso all'accessione che ha subito di Link ma anche diciamo nella France Insoumise è evidente diciamo che c'è una dimensione molto forte di richiamo al popolo nazione per usare anche qui un'espressione gramsciana e quindi non è una dimensione immediatamente transnazionale come era invece all'origine del partito della sinistra europea terzo elemento sempre per dire le cose con grande franchezza e diciamo una conversazione non come dire eccessivamente diplomatica come deve essere tra compagni e compagne io credo che ci sia anche un pezzo di introduzione diciamo di un mix tra russofobia e anticomunismo anche in un pezzo della sinistra in Europa non ovviamente della sinistra europea e vengo qui invece al to do list cosa possiamo fare e come dobbiamo fare cosa dobbiamo fare e cosa possiamo fare secondo me come partito della sinistra europea primo una cosa che è già in atto anche qui Walter ha avuto un ruolo propulsivo importante io credo che il partito della sinistra europea debba diventare il partito della pace il partito di costruire incapace di costruire quella Zimmerwald che è drammaticamente mancata nel diciamo contesto europeo contemporaneo questo noi dobbiamo essere capaci di fare di costruire mobilitazione contro la guerra contro la militarizzazione dell'Europa contro le complicità europee io credo che questo debba diventare il nostro profilo politico principale quindi ragionare diciamo su come su quali processi di pace si possono costruire ma soprattutto come dire radicare la propria partecipazione o meglio radicarsi stimolando e raccogliendo processi di partecipazione transnazionali su questo primo secondo un elemento che su cui a mio avviso diciamo dobbiamo sprigionare creatività politica e diciamo la questione forma partito o forma partito transnazionale perché non ci sfugge che l'altro grande elemento di differenza fra i partiti che compongono la sinistra europea e i partiti che compongono l'European Left Alliance è anche nella forma organizzativa penso a quella di Podemos o a quello della France Insoumise nascono entrambi in un contesto diciamo di forma organizzata organizzativa non tradizionale e allora secondo me da questo punto di vista ragionare diciamo su quali possono essere oggi le forme per intercettare o meglio ricostruire una connessione tra condizione e coscienza a livello europeo ricostruire un'opinione pubblica europea transnazionale perché se non costruiamo quella non costruiamo un partito della sinistra europea questo deve essere il nostro compito e questo secondo me richiede una forte reinvenzione della forma partito io qui dico reinvenzione anche qui guardo Pasqualino perché so di poterla come dire chiamare in caso a sovraggionamento di questo tipo da femminista io chiudo chiudo veramente Roberto da femminista io diciamo con molti libidi addosso penso che sia diciamo esaurita la spinta propulsiva della critica alla forma partito della critica femminista alla forma partito ci vuole capacità e creatività femminista in relazione a nuove forme di organizzazione politica e da questo punto di vista sperimentare un livello diciamo non nazionale come quello europeo secondo me è una sfida che come femministe dobbiamo non solo raccogliere ma anche lanciare se necessario anche lanciare in testa a qualcuno quarta cosa le iscrizioni individuali io credo che siano un'altra diciamo grande risorsa che il partito della sinistra europea può agire in maniera anche qui creativa ultima cosa ma non ultima in termini di importanza anzi forse la principale e qui diciamo mi relaziono diciamo per il ruolo che svolgono in particolare ad Heinz e a Marga io credo che il tema della ricerca sia un tema fondamentale cioè partiti che non sono in grado di elaborare diciamo sia un'analisi dei processi di accumulazione sia un'analisi dei processi di formazione del senso comune nei tempi dell'intelligenza artificiale della comunicazione disintermediata della come dire anche diciamo innovazione dal punto di vista delle forme di lotta penso a tutto tutto quello che il movimento transfeminista non ha di meno da un lato il movimento contro la crisi climatica dall'altro stanno mettendo in campo ecco saper leggere diciamo queste discontinuità secondo me è un modo a interrogarsi creativamente su queste discontinuità è un modo per come dice celebrare degnamente un copriano e soprattutto rimuovere il desiderio o l'incubo di un funerale grazie l'onora hai citato questa forma innovativa che già nel 2004 venne inserita nello statuto del partito della sinistra europea cioè l'iscrizione individuale diretta al partito europeo e quindi do subito la parola a Piero che un po' rappresenta quest'anima del partito della sinistra europea Piero Soldini grazie Roberto ma allora intanto inizierei così quando Roberto Morea mi ha chiamato per invitarmi a questo appuntamento a questo compleanno come è stato definito del ventennale del partito della sinistra europea io la prima cosa che ho pensato è che facevo io vent'anni fa nel 2004 e la memoria è andata subito al fatto che in quell'anno da responsabile immigrazione della CGL io ho promosso insieme a Bruno Trentin un comitato che raccolse diciamo centomila firme nel corso diciamo di un anno circa per promuovere la cittadinanza di residenza per gli immigrati extracomunitari c'è la situa intè de residenza come la chiamavano i francesi allora eravamo in contatto anche con alcuni comitati francesi ricorderà poi Pasqualina e anche Roberto che la presentammo anche al Parlamento europeo e la presentammo poi l'anno dopo poco dopo al Presidente della Camera che era Fausto Bertinotti e al Presidente del Senato che era Franco Marini cioè due leader sindacali uno comunista uno cattolico che presiedevano diciamo il Parlamento italiano una botta diciamo di nostalgia consentita rispetto alla situazione che viviamo oggi però si trattava allora di argomenti non all'ordine del giorno che noi lanciavamo diciamo oltre gli ostacoli e direi che vent'anni dopo siamo ancora nella fase in cui sono argomenti diciamo non all'ordine del giorno una cittadinanza europea di residenza collegata a uno status diciamo di diritto civili di diritti civili di diritti sociali degli immigrati in Europa che sono diciamo 30 30 milioni di persone insomma forse anche più quindi diciamo una medio grande nazione delle delle dell'Unione europea poteva rappresentare può ancora rappresentare diciamo un punto di innovazione formidabile cioè di gente che diventa cittadino europeo non essendo cittadina di nessuno dei paesi che compongono l'Europa e quindi potrebbe essere come dire diciamo la punta di diamante di una evoluzione dell'Europa verso uno status di cittadinanza europea oggi siamo in una fase completamente diversa purtroppo io infatti che faccio oggi oggi rappresento un comitato di compagni e compagne che aderiscono individualmente al partito della sinistra europea in fondo è una rivendicazione di cittadinanza di militanza di appartenenza ad una sinistra più grande diciamo geograficamente e anche politicamente culturalmente cioè dove c'è più aria dove si respira cioè dove è possibile incontrare un pluralismo di idee di conoscenze di esperienze cioè una diversità e dove le diversità convivono non confliggono ma non competono ma convivono questo se noi lo affidiamo diciamo questa missione se noi la affidiamo ai partiti nazionali come è attualmente perché oggi il partito è un partito diciamo è una federazione di partiti nazionali cioè noi la mettiamo in crisi già in partenza cioè pensare a una diciamo a un passaggio di fase al transnazionalismo dell'Europa utilizzando lo strumento del partito nazionale secondo me è un controsenso cioè la crisi dei partiti soprattutto dei partiti di sinistra è legata proprio a questa dimensione nazionale cioè al come dire al loro alla alla percentuale eccessiva cioè come come il il colesterolo di nazionalismo di sovranismo dei partiti nazionali è una tendenza quella dei partiti nazionali diciamo a chiudersi cioè è una tendenza al liderismo alla come dire all'amichettismo alla comunità ristretta alla al cerchio ai cerchi magici cioè non sono dimensioni e non è una cultura che ci può sulla quale possiamo investire per trasformare l'Europa o quindi partendo da questo noi abbiamo apprezzato molto la la discussione che c'è stata nell'ultimo esecutivo del partito sia nella relazione di Walter Bayer e sia negli documenti diciamo che sono stati licenziati dall'esecutivo perché ci pare che per la prima volta questo tema delle adesioni individuali che noi rappresentiamo poi abbiamo saputo nel corso diciamo delle nostre discussioni che non è un fenomeno diciamo solo italiano ci sono comunque sparsi anche in altri paesi questo questo tema è stato posto diciamo ci si è fatto carico di assumerlo sia in termini diciamo di ragionare su sul riconoscimento di un ruolo diciamo di un livello di partecipazione e di rappresentanza effettiva all'interno diciamo del partito sia dal punto di vista diciamo istituzionale che di elaborazione che di militanza ma ci pare ed è la cosa più importante che sia colta anche proprio l'elemento di innovazione cioè di che cosa può significare una componente diciamo che aderisce al partito senza i vincoli di un'appartenenza a partiti nazionali e quindi quanto può spingere in una direzione che secondo me è l'unica diciamo percorribile se vogliamo superare la crisi della sinistra dei partiti nazionali e conseguentemente anche nostra cioè del partito europeo che poi la come dire la assume purtroppo per come è connotato e fra l'altro scusate una parentesi quando dico crisi dei partiti nazionali fra l'altro mi riferisco non soltanto a quelli tra virgolette storici partiti comunisti storici ma mi riferisco anche alle formazioni più più nuove cioè non è che possiamo dire che le formazioni nuove diciamo della sinistra che si misurano in Europa abbiano superato la fase diciamo di crisi di militarismo e anche in qualche caso di dipendenza dalla diciamo dalla tra virgolette dalle tendenze culturali egemoniche del neoliberismo cioè il fatto che per esempio la sinistra si divide sulla guerra o si divide sull'immigrazione secondo me è emblematico sono due argomenti che nella degenerazione del dibattito a sinistra hanno subito un processo di spoliticizzazione cioè noi abbiamo pensato che bisognava su alcuni argomenti più difficili toglierli dalla contenzioso destra sinistra cioè erano argomenti non di destra e non di sinistra che dovevano essere affrontati chissà perché col buonsenso non so con che cosa io penso che dobbiamo fare il contrario cioè dobbiamo ripoliticizzare questi argomenti perché questi a mio avviso rappresentano diciamo le nuove discriminanti cioè non si può dire che sulla guerra ci si può dividere perché la guerra è diciamo il conflitto che sono in corso diciamo bisogna leggerli da un punto di vista della diciamo dei rapporti di forza in questa società e quindi diciamo guerra come strumento del capitalismo e del neoliberismo e quindi non è pensabile che li spoliticizziamo e li rendiamo un argomento sul quale ci si deve dividere tra chi è l'oppressore e chi è l'oppresso penso che il ruolo che noi possiamo assumere da questo punto di vista e mi pare che sia stato accolto questo elemento può essere foriero diciamo di un'innovazione importante ed è in questo contesto insomma che io sempre a nome del comitato del mio comitato Europa Sinistra candiderei diciamo il nostro gruppo il nostro comitato ad ospitare per esempio l'anno prossimo che sarà fra l'altro l'anno del giubileo quindi fra tante iniziative diciamo religiose potrebbe essere invece un'iniziativa laica della sinistra a Roma il primo meeting del partito della sinistra europea degli aderenti individuali che potrebbe essere un'occasione per mappare mappare da un punto di vista organizzativo questa questa tra virgolette questa componente e dargli l'opportunità di dare un contributo anche alla preparazione delle fasi successive che ci porteranno poi al congresso del duemilaventisei grazie 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 Piero suggestiva la richiesta vediamo via mano mano che si delineeranno le difficoltà del partito sono evidenti quindi le risorse anche però credo che sia un appuntamento importante magari poterlo mettere in calendario prima di dare la parola a Walter se Walter è d'accordo ci sono due o tre richieste di intervento da parte dei nostri ospiti che partecipano sia alla redazione di Transform Italia sia in altre forme e alla nostra vita quindi chiederei a Paola Giaculli se vuole una questione Walter sei d'accordo sì ah ecco già vedo che ho lo schermo dietro della Palestina non so quando l'ho messo vabbè comunque ciao e grazie a tutti e grazie Roberto per questa possibilità volevo tornare sul sulla fondazione di questo secondo partito dalla sinistra europea vi ha fatto accenno anche Eleonora prima perché volevo chiedere un po' quali sono le ragioni lei ne ha parlato di una discriminante potrebbe essere quella quella della pace ha detto volevo un chiarimento da questo punto di vista cioè volevo chiedere se queste formazioni che hanno deciso di fondare questo secondo partito hanno una posizione unanime mi sembrava di no mi sembrava di aver capito di no sulla questione della pace per esempio anche sul conflitto in Ucraina e poi a questo proposito magari faccio un commento perché riprendo quello che ha detto Pietro mi sembrava molto giusto che la pace ovviamente è una discriminante non solo diciamo nell'attualità ma lo è sempre stata per conto mio e quindi guardando alla storia che un po' spesso viene trascurata dovrebbe servirci da riferimento da questo punto di vista ci dovrebbe aver insegnato qualcosa insomma a sinistra e in effetti la storia viene strumentalizzata spesso e volentieri per riscritture anche molto discutibili come lo è stata per esempio la famosa risoluzione del Parlamento Europeo del 2019 per esempio tanto per fare un esempio ecco tutto qua grazie grazie a te Roberto Mosacchio io ci tenevo anche un po' a salutare visto che faccio parte sia di trasform Italia e Europa però anche per me il punto focale è questo che veniva posto nell'intervento di Heinz insomma e adesso lo riprendevano sia Eleonora che Paola e vorrei porre a Walter insomma cioè rimodularci come partito della pace danno a questo senso della pace però una valenza politica piena ecco io penso che da questo punto di vista materiali ce ne sono tanti e contemporaneamente è la cosa che più mi angoscia questa situazione di difficoltà perché si è detto allergia ai compleanni insomma io sono allergico ai funerali sia quelli dei partiti ma soprattutto quelli delle persone ci sono decine di migliaia di persone che stanno morendo nella guerra e a proposito invece anche del valore delle ricorrenze non so se voi sapete che in questo momento in Italia il film più visto in assoluto anche dai giovani è un film dedicato a Enrico Berlinguer che ha le sale strapiene ed è un film non nostalgico tra l'altro è fatto un regista giovane un regista che non appartiene a quella storia a quella generazione ma che ha molto lavorato sui materiali di Berlinguer e anche il rapporto con i suoi collaboratori e la famiglia dubito che si farà mai un film su Occhetto su Veltroni su D'Alema invece si può fare un film che coglie la coscienza popolare in questo momento e anche le domande e in particolare lì si vede il film si chiama La grande ambizione l'ambizione di fare il socialismo nella democrazia sapendo di essere collocati dentro la divisione del mondo di Yalta ci sono dei pezzi dalla Russia dall'Unione Sovietica allora è interessante un dialogo con Bresnev di allora e però pure in quella situazione così difficile la questione della pace era molto chiara ai comunisti e dentro un movimento internazionale pacifista noi abbiamo avuto allora la questione dei missili da mettere contro i missili sovietici che fu osteggiata non solo dai giovani ma dal partito comunista fu una delle questioni che furono chieste al partito comunista per poter entrare nell'area di governo e lì c'è un rapporto che viene spiegato molto bene nel film tra pacifismo eurocomunismo e socialismo nella libertà e nella democrazia io nel vedere le divisioni adesso sono abbastanza sgomento perché mi sembra di essere riprecipitati non nello scontro ideologico tra comunismo e democrazia ma in una sorta di scontro ruigliano diciamo così tra democrature e autocrazie e dal punto di vista geopolitico una sorta di 915 quindi chiedevo a Walter questo possiamo provare su questo terreno approfitto per dire che c'è Pasquale Napolitano che è stata vicepresidente del gruppo socialista ai miei tempi al Parlamento Europeo e che si è recentemente iscritta individuale al partito della sinistra europea sono molto contento di questa scelta che ha fatto non so se Pasqualina vuole dire due cose no io che voglio dirvi voglio ringraziare e dire che sono stata partecipe di questo dibattito purtroppo sono entrata con un po' di ritardo e quindi non ho potuto sentire tutti gli interventi ma sono d'accordissimo con l'impostazione dell'intervento di Eleonora e poi con Piero devo dire che all'epoca in cui sono stata a Parlamento Europeo questa del ruolo dei partiti europei è stato un grande problema e dibattito anche all'interno del partito del socialismo europeo dell'epoca e noi avevamo un ottimo segretario europeo Rasmussen che si era battuto con tutte le sue forze per poter avere questa agibilità di costruire appunto quantomeno la coscienza che essendo iscritto ad un partito nazionale tu eri anche iscritto a un partito al partito europeo cosa che i partiti nazionali nascondevano non so perché penso per paura di perdita di potere quindi questa è una battaglia secondo me essenziale perché lo dico fuori dai denti non è vero che solo la destra ha in sé elementi di nazionalismo e se per la destra questo porta consenso per la sinistra è la sua morte perché la sinistra nasce con una visione che supera la dimensione nazionale e che guarda ai suoi interlocutori che sono i lavoratori che sono gli sfruttati che sono le donne quindi io credo che noi come dice leonora dobbiamo nella creatività che possiamo avere lavorare per una dimensione trasnazionale della politica e delle lotte che questi partiti non ce la daranno perché ormai sono strutturati su un'altra dimensione quindi io credo che queste divisioni della sinistra ci fanno soffrire moltissimo però credo che bisogna reagire spostando più avanti sia gli ebiottivi sia le forme e cercare di praticarle quindi quest'idea di tenere a Roma in concovidanza col giubileo la prima riunione degli iscritti individuali può essere una bellissima idea ultima cosa che volevo dire bisognerebbe fare una ricerca lo dico anche a Roberto su quante volte il Parlamento europeo ha votato per avere il riconoscimento della cittadinanza europea guarda Pietro saranno nei periodi in cui noi siamo stati in quel Parlamento quel Parlamento almeno una decina di volte si è pronunciato in questo senso cosa che naturalmente non è stata raccorta ma oggi non solo questi discorsi sono andati andati indietro dal punto di vista dei governi che hanno sempre voluto trattare la questione immigrazione come una questione di consenso rispetto alle proprie opinioni pubbliche ma purtroppo sono andati indietro nel dibattito nella società tant'è vero che riproporre oggi questa cosa sembra addirittura nella situazione attuale un'utopia ma quel Parlamento l'ha votata tantissime volte forse nella biblioteca del Parlamento bisognerebbe fare una ricerca soprattutto mentre si discuteva la carta dei diritti fondamentali in coincidenza di quel periodo e sarebbe interessante anche ricostruire una piccola memoria storica della vita di quel Parlamento e anche delle pronunce che ha fatto comunque sono molto orgogliosa di far parte di questa di questa esperienza che credo che il futuro dell'Europa e dell'altra Europa stia qui grazie a voi grazie a voi Polina adesso le conclusioni segretario una volta si diceva e quindi la parola a Walter per chiudere questo incontro e mi ringrazio ancora anticipatamente di di aver partecipato Walter pubblico pubblico in la Transform yearbook un'article under the title The European Union and the Dilemmas of the Radical Left and I would recommend to read this article again because the main thesis of this article was already said in 2011 the European Left lacks strategic coherence and the defeat of Syriza in the struggle against the Troika was one consequence of this strategic weakness Syriza was not defeated in Greece Syriza was defeated in Europe it's often said that while it has to do with the lack of solidarity through the trade unions were not mobilizing strongly in solidarity with Syriza the social democratic governments neglected the struggle of Syriza but this is only one side of the coin the other side of the coin was that from January to July 2015 when Tsipras signed the third memorandum the European central bank the Deutsche Bundesbank ECOFIN meticulously and undisturbably constructed the devices with which they crushed the Syriza government that leads me to the conclusion that mobilizing against austerity of course is a necessity to mobilize masses and remains a necessity but it is not sufficient to change the institutional relation of power this is a question of the state and this is the role which political parties have to assume and that's why I say that one of the strategic weaknesses which was concealed by the successes in 2015 and the following years was that we were not really strategizing on the relation of power on the European level and the possibilities of the left to extend its institutional power now we are in a new situation and you understand that it is difficult to speak on a new situation actually on the day of the US American elections but something seems to be obvious one is new austerity is looming that leads to a crisis of the public services that leads to the housing crisis maybe you noticed that in a recent survey it was revealed that in six European countries 10% of the population have difficulties to afford their rent it's obvious meanwhile that we will miss the Paris targets with reference to the environmental rehabilitation and the price is dire just to mention what happened in the recent weeks in Spain but you can refer to Germany to Austria to Greece in many places it is more than clear that we are more and more confronting weather and climatical extreme situations which cannot be managed but all this is overshadowed by the slide into Euro and as it was said I don't know by whom in the debate today this creates unsecurity this creates fears and this in my opinion is the deepest source of the far right namely the incapacity of the ruling elites to provide the people with security and optimistic views on their personal future so what does the EU Paola was asking about the attitude of the ELA parties regarding the war this is very significantly demonstrated by the resolutions adopted in the European Parliament on the war in Ukraine which mainly say that we must fight this to the very end there is only one exit of the war which is victory of the Ukraine we have to beat the Russians we have to strengthen NATO and so on and forth and most of the parties who belong to the European left alliance party voted in favor of these resolutions now you could say well the war in Ukraine is a very emotional experience it's the first very big war on European soil there it is to a certain extent understandable that people react in this way but the problem goes much far beyond this on 9th of october that was two weeks before the elections were held in Georgia the European parliament adopted a resolution in which it called two weeks before the elections in which it called the Georgian government to ensure a peaceful transition of power the text of this resolution reads as if it was the decree of a colonial administration you have to do this you are not allowed to reconcile with Russia you have to follow our lines regarding the sanctions against Russia and so on and so forth and the question which this poses is the following how do we see the perspective of enlargement of the European Union what does this mean for our perception of the future of Europe do we see the European Union as an empire which gradually expands towards the east and in case you have societies like the society in Moldova which half and half is in favor of joining the European Union and half is not in favor of it or is in Georgia where you have now a majority which is skeptical about the price about the price of joining the European Union how to behave my thesis is that joining the European Union and enlarging the European Union could be a project of peace could be a reasonable project if it is embedded into a European peace order but if it is not embedded into a European security architecture it is the source of a continuous confrontation in the war with Russia and that is the strategic dilemma to which we have to take a position and that is why this is a serious matter I would say it is a very serious matter that for example regarding the Georgia resolution again one third of the left group in the European parliament voted in favor one third of the group voted against and one third of the group abstained is serious but it's not a reason to split in my opinion also because it is the reflection of the absence of a strategic debate and of the absence of a debate about the perspective of the European Union so we need time to do this we need dialogue to do this and we must avoid everything which burns the bridges I was saying recently in a speech in Brussels that I do not regard the European left alliance as an opponent I don't regard it as a neighbor I regard it as a sister party and we will not fall into the trap letting us being involved in any polemics we have to say what we have to say and I hope that I was clear what I think about the positions which are under discussions but at the same time we have to do this in respect and in solidarity and we have to combine it with continuous offers for cooperation and for dialogue and finally we have had in october a meeting of the executive board of the european left party in which we tried to design the next steps of our work five priorities priority one we have to transform the european left party into a useful tool hands spoke about profile i think we have the same thing in mind we want to propose to the parties which make up the european left parties and ngo and parties beyond of that to start a campaign for social housing and if i say campaign i really mean campaign not something in the internet our proposal is to spend money to raise money to spend human resources to come up with something which is visible on the european level secondly we want to launch a peace initiative next year 50 years anniversary of the conference of security and cooperation in europe in helsinki i think it is necessary and it is worth that we invest ourselves we find partners for a big event celebrating this anniversary by proposing a european security plan or step towards a european security plan which can broadly be shared from the vatican to the left parties in europe and the trade unions second usefulness we we want in cooperation with transform open a space for the necessary strategic debate without any polemics or without any pressure just raising the central issues of european politics which will be defining the agenda of europe and finally there is a discussion about the redesigning of the structures and the working methodology of the european left party we received a number of proposals one coming from the link in germany we decided at the executive board in berlin to translate i think 90% of these proposals now in statutory provisions other ones in rules of procedure openly speaking we disagree on the principle of consensus some are in favor some are against it let's see if we can reach a consensus on the consensus principle but after all after all i believe that the problem of the left in europe is politically it's in the first place politically and we must focus on things which matter for the european people and that is positioning our party as a useful tool for the european citizens we agree we agree on enhancing the contribution and the participation of the individual members there will be a vice president taking care for the coordination of the work with the individual members of the european left party there will be also a person in the office of the EL trying to facilitate this participation because it is true first we have individual members and it's a growing number second we have the problem that parties left the EL while members of these parties want to stay with the EL we must find ways to handle this issue so this is what we think could help us in managing this contradictory situation yes to wrap up I must confess I was panicking in summer I was not sure that the EL will survive the blow through the split now the situation is that 16 members of the European Parliament from nine parties support the EL the European left alliance is supported by 18 MEP from six parties what does this figure mean this figure this figures mean that together we would be 34 members of the European Parliament from 15 parties so instead of a stable middle sized consolidated party we have two small parties the EL has the potential to expand we are discussing was a number of parties about upgrading their participation in the European Parliament but after all what matters will be our capacity to unite forces to join forces with the other parties with the national parties which form the other party and with the European trade unions and social movements in order to resist the current trend of European politics thanks Walter applauso e dobbico e grazie veramente perché abbiamo necessità anche di vedere quali sono i passi che anche noi vogliamo fare insieme sicuramente transforma a lavoro come dici come suggerisci tu lavorerà sicuramente per trovare il modo di dialogare di costruire momenti di confronto e possibilmente anche di convergenza su temi che credo vengano condivisi da tutti delle sinistre europee e quindi continueremo sicuramente a lavorare in Italia come in Europa intanto volevo ringraziare Marga Heinz e tutti voi per aver partecipato e spero che ci siano momenti di incontro ancora come questo perché è importante far sentire anche la voce del partito della sinistra europea in maniera così diffusa e la possibilità che possa diventare un punto di riferimento e come dice Walter uno strumento utile nelle mani dei cittadini è un'ambizione che condividiamo grazie ancora a tutti e a tutte ci vediamo sicuramente presto innanzitutto al forum all'European forum che il partito da sinistra europea insieme alle altre forze progressiste ambientaliste promuove il prossimo fine settimana Budapest quindi a prestissimo grazie 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 bye bye ciao